Anche quest'anno abbiamo ricevuto questo riconoscimento in quanto la nostra azienda da oltre 40 anni punta molto sull'innovazione ma soprattutto sulla sicurezza dell'operatore. Nell'estate del 2018 si è cambiata la normativa sulle nostre macchine dagli spaccalegni ai banchi Sega. Questo ci ha permesso di studiare dei nuovi dispositivi puntando sempre sulla sicurezza finale dell'operatore. La menzione tecnica è stata data su un banco Sega per un freno di emergenza che abbiamo dovuto applicare sulla versione a trattore in quanto fermiamo il disco agendo sull'albero e non sulle cinghie. La menzione tecnica è per un separatore di reflui zootecnici, serve per separare il liquido e il solido, il solido viene essiccato e messo nelle cucette degli animali in modo da avere un abbattimento sia economico che di batteri a livello di zootecnia. Il nostro core business è fatto la costruzione di carribotti, spandiretame e rimorchi, tutta la gamma di rimorchi che ci sono in agricoltura. A oggi c'è abbastanza lavoro e stiamo lavorando e siamo molto contenti. Abbiamo ottenuto la novità tecnica con questa nuova macchina che è un'assoluta novità appunto nel settore. È una macchina nata per trasportare circa due metri cubi di prodotto che può essere paglia, lolla, distribuisce questo prodotto nella fase iniziale dell'allestimento della lettiera, dopodiché si può trasformare e posare il mangime sopra la stesura di un rotolo di carta in un'unica operazione. Fattore che riduce di circa il 60-70% i tempi di lavorazione appunto nell'allestimento di una lettiera.